un cordiale saluto bentornati a vita vera siamo qui prontissimi a raccontarvi delle storie come sempre oggi partiremo dalla storia di un signore che vi presenterò tra poco il quale ha scoperto ecco l'importanza dell'acqua anzi ne ha fatto davvero una ragione di vita e una filosofia sulla quale ha basato un progetto che ora sta coinvolgendo proprio a livello mondiale soprattutto i giovanissimi andremo avanti anche per capire poi quali sono stati i campi di applicazione di questo progetto appunto che riguardano la musica ma anche le scuole avremo altri ospiti per passare poi ad altre storie legate questa volta a un concorso che si lega ai social network per finire con il mondo della solidarietà avremo qui l'Avis di Montefiore ma ecco ricapitoliamo partiamo dall'inizio vi presento Andrea Nitta buongiorno buongiorno grazie per essere qui lei è fondatore della water academy però prima ecco di presentare questa realtà particolare anche internazionale io vorrei partire da lei con la sua di storia che cosa ci può raccontare ecco sì parlando di acqua una cosa che dobbiamo assolutamente dire come premessa è che siamo ovviamente composti di acqua quindi questa è una base comune sulla quale noi siamo nella condizione di capire tutti uguali per essenza biologica l'uguaglianza dell'essenza biologica ci permette di capire che c'è un'uguaglianza a più livelli dagli animali alle piante agli esseri viventi tutti per essenza biologica questo ovviamente ci permette di entrare in una visione sicuramente giuridica innovativa sulla quale poi potremmo approfondire in secondi ambiti ma la cosa sostanziale è che l'acqua è per assunto un partner delle frequenze un buon partner veicola e quindi è un elemento di comunicazione lei l'ha sperimentato proprio sulla sua pelle fin dalla tenera età sì perché allora facciamo un esempio molto semplice per i telespettatori se prendiamo una cassa amplificatrice attiva prendiamo il jack come il cantante fa per vedere che la cassa funziona la prova sul proprio palmo la cassa suona vuol dire che noi stiamo emettendo un campo un suono dato da un campo elettromagnetico se non avessi l'acqua non credo questo potesse accadere possa accadere capisce voglio dire cioè se metto lo stesso jack nell'acqua la cassa anche nel minimo suona vibra quindi l'acqua essendo che veicola il campo elettromagnetico è un elettro conduttore permette di far fruire quelle frequenze tanto che la cassa suona lei ha sperimentato anche le funzioni lenitive? sì allora diciamo questo il fatto che noi per istinto ci fa male il dente o la gengiva mettiamo la mano alla gengiva questo vuol dire che noi stiamo apportando forse un campo elettromagnetico sulla parte dolente con la sensazione che il dolore passi quindi questo mi ha portato a comprendere sin da piccolo che l'istinto che avevo di toccare gli altri come lo abbiamo tutti ci permette di in un modo in un altro lenire quelli che sono i nostri stati di malessere fisico dolori o stati infiammatori ovviamente è una dote naturale che tutti abbiamo quindi questo mi ha portato a comprendere che forse l'acqua era l'intermediario, l'intercessore tra il palmo della mia mano con lo stato a quanti anni aveva quando ha cominciato a passi queste domande? 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni come se lo spiega che un bambino di 5 anni si pone già a quesiti di questo tipo? perché osservando ti fai delle domande e queste domande sono ponderate dal fatto che accadono delle cose e dato che vivendo in un ambiente, interagendo con l'ambiente è normale, naturale porsi la domanda quindi è anche naturale trovare una risposta e la risposta non la si va a trovare in questo caso nei libri piuttosto ho cercato di fare delle prove e queste prove hanno portato una sua ripetibilità nel tempo mi scusi, di solito a 5-10 anni non è che ci si pone quesiti sui massimi sistemi si fa male il dente, si va dalla mamma, si prende la medicina e via a 5 anni nelle mie preghiere c'era la richiesta della sapienza, l'intelligenza e l'umiltà a 5 anni questo è che chiedevo nelle mie preghiere forse perché è chiaro che vivevo in un paesino molto semplice, di poche pretese, una famiglia molto semplice e questo mi ha portato sempre a vivere in un modo semplice e con quello che potrebbe risultare una fenomenologia naturale che però a me ha suscitato sempre molta curiosità osservare per poi capire perché un fenomeno piuttosto che un altro forse mi consenta di dire era nel suo destino, a giudicare poi dagli incontri che ha avuto successivamente possiamo interpretare questa cosa, questa realtà proprio come una base preparatoria all'affrontare poi degli eventi e degli incontri sicuramente particolari, non consueti perché portano poi a delle cose ulteriori nella prospettiva del tempo e crescendo appunto mi sono dovuto predisporre perché è stata una predisposizione anticipatoria a quello che poi mi è accaduto negli ultimi dieci anni soprattutto negli ultimi tempi degli incontri positivi che hanno portato la mia ragione a vedere dei percorsi di innovazione culturale che possono davvero gettare le basi per qualcosa di concreto a livello globale perché non sono personalmente io a dire queste cose ma è una pluralità di persone che non conoscevo e che dicevano la stessa cosa quindi forse essendo in un contesto naturale come lo sono altri si attinge alla stessa fonte quindi le informazioni sono pressoché le stesse Qual è stato l'incontro che le ha cambiato un pochino non dico la vita ma comunque le ha tracciato la strada del suo percorso? L'incontro chiave che può aver dato inizio a un processo pratico, concreto e magari anche divulgativo perché condividere credo che sia uno degli aspetti principi della vita, del viver bene è stato l'incontro con un giapponese una persona molto semplice che si è prefissata nell'arco di un ventennio di gettare un semino rivolto al processo di pace internazionale questo giapponese di estrazione molto semplice essendo un medico della medicina orientale laureato in Giappone appunto è lui quello che stiamo vedendo in queste immagini è il professore Emoto è il professor Masaru Emoto una persona ovviamente umile nella sua postura nel suo porsi, nelle sue aspettative che però si è fatto anche lui delle domande una cosa che ho trovato molto comune è che era un curioso quanto lo ero io ora lo sono ancora tuttora ma ricorda come è avvenuto questo incontro? cioè c'è stata subito un'empatia? lui è venuto in Italia alla luce di un invito che ho posto alla sua attenzione perché la sua attività sicuramente era meritevole della mia attenzione lui lavora sull'acqua da almeno 40 anni e ha cercato di portare all'ONU un discorso e questa cosa mi incuriosì perché la vedeva come un elemento di pace acqua messaggera di pace sempre però diciamo come veicolo come veicolo e torniamo un po' al suo discorso di partenza da italiano mi sono posto la domanda come può l'acqua essere messaggera di pace messaggera questo aggettivo mi ha incuriosito perché anche io credo che l'acqua sia un interlocutore e allora ho deciso di contattarlo per capire se aveva modo e tempo di venire in Italia ovviamente la sua risposta fu affermativa ma la cosa che mi sorpresa ancora di più era che lui per stare in Italia rinunciò a due grandi eventi a Parigi anche abbastanza interessanti da un punto di vista economico per stare sei giorni a San Benedetto del Tronto nelle Marche lì per lì i suoi assistenti si perplessi si chiesero il perché di questa cosa non avendo una risposta che io personalmente penso di aver ricevuto in una sua lettera che tengo ancora riservata e che essendo che lui ha trovato nell'operato che stava svolgendo qualcosa che stava facendo nella identica maniera lui e questa similarità senso di appartenenza alla normalità ci ha portato ad avere un matrimonio a prima vista è stato un fulmine che è spioccato tra noi e con il suo chiaro invito Andrea l'Italia deve partecipare immediatamente a un processo di pace che si è attivato dieci anni fa te la senti di essere parte in causa di questa cosa e collaborare al mio fianco insieme ad altre persone per vedere di poter fare qualcosa per questi bambini perché sono bambini molto particolari negli ultimi vent'anni che stanno nascendo e la responsabilità è dare loro una base perché si possa avere un futuro migliore io dissi al professore Modo come faccio a dire di no a lei? non posso, lei mi chiama in causa e io non mi posso tirare indietro beh ci avrà anche creduto nel progetto diciamo che o si è fidato del personaggio no, il personaggio si poneva in maniera obiettiva le sue prerogative erano se ad oggi noi siamo arrivati ad un punto critico e i bambini sono vittime di questo punto critico la responsabilità degli adulti è salvaguardare il salvabile cercando di far capire ai bambini come non cadere negli errori degli adulti intercedendo attraverso gli adulti quindi il suo messaggio era attraverso l'acqua e lo studio che il professore Modo ha fatto e magari lo descriveremo attraverso l'acqua i bambini possono in maniera molto empatica capire immediatamente e quando dico immediatamente l'ho sperimentato sono 15 minuti capire come risolvere alcune problematiche importanti è chiaro che lui si è sempre posto in maniera molto neutra perché non è uno scienziato non è un ricercatore acclarato è semplicemente un medico della medicina orientale ponendosi delle domande sul perché il cristallo di un posto era diverso dal cristallo di un altro posto o perché i cristalli della neve sono diversi tra loro quindi a queste domande lui si è voluto porre una risposta facendo un percorso esplorativo perché questo studio sui cristalli? perché lui appunto che lavorava in termini di prevenzione cercando di attivare nella coscienza dei pazienti uno stato di guarigione personale, individuale è chiaro che lui intercedeva attraverso l'acqua cioè interrogava per stimoli di risonanza il corpo della persona per ricevere degli impulsi frequenziali che classificati davano uno stato di benessere o di malessere complessivo della persona ma per far capire ai nostri telespettatori secondo questo maestro l'acqua ha delle proprietà benefiche o curative? dunque e o curative? allora il professore Motto non si è mai posto come un maestro innanzitutto piuttosto come colui che dice se l'acqua risponde a degli stimoli questi stimoli possono essere fotografati e nell'essere fotografati noi vediamo una forma simmetrica se lo stimolo è propositivo una forma non simmetrica se lo stimolo non è propositivo ma questo non ha ovviamente una valenza preventiva di prevenzione o di guarigione no ecco no chiariamolo perché magari poi si può fraintendere questo lo si afferma nell'ambito della prevenzione ma nell'ambiente dell'omeopatia o comunque nell'ambito della genetica il premio Nobel Luc Montagnier ha ampiamente descritto come il DNA possa replicarsi nell'acqua attraverso l'informazione elettromagnetica del DNA stesso e ci sono ampie documentazioni su questo Emilio Del Giudice fisico nucleare ha ampiamente parlato di dominio di coerenza dell'acqua così come della memoria dell'acqua ma in termini ovviamente più specifici nella fisica il punto è comprendere questo fenomeno il cristallo diventa ciò che l'acqua ha ricevuto lo si può capire e interpretare se noi consideriamo i processi di fisica e non di chimica o biologia perché? perché parliamo delle frequenze cioè se all'acqua le diamo ad ascoltare della musica è chiaro che l'acqua assorbe delle frequenze relativa a quella musica e si struttura per tale è evidente per chi ha il pollice verde a casa che cantando alla pianta mentre si innaffia la pianta è più bella ma di solito le signore anziane dicevano proprio questo che se si parla alle piante o ecco si intonano delle note le piante stanno mai oddio sono tutte insomma credenze popolari poi bisogna vedere se c'è un riscontro scientifico botanico allora la credenza popolare può avere un riscontro se dopo questa informazione ognuno a casa prova a mettere due piantine con su un vasetto una parola ti amo sull'altra la parola ti odio e innaffiare tutti i giorni all'una si canta all'altra no addirittura vogliamo fare una prova possiamo fare un invito possiamo fare un invito ovviamente vi dirò di più su youtube è possibile trovare the flowers experiment di una ragazza inglese che ha provato a farlo su tre piantine in un mese e il risultato è che la piantina con la parola ti amo germogliava e continuava a germogliare cosa che invece non accadeva nella parola ti odio o addirittura quella ignorata che era completamente morta ma vi dirò di più c'è un ex agente dell'fbi che negli anni sessanta lui era preposto a fare gli interrogatori con la macchina della verità lui fece un esperimento non ricordo adesso il nome fece un esperimento molto interessante prese la sua macchina della verità e la mise collegata ad una pianta se alla pianta veniva formulata un'intenzione positiva la pianta reagiva con stimoli all'oscilloscopio armonici ma quando questo personaggio ha cominciato a pensare di bruciare la pianta a pensarlo la pianta ha cominciato a dare delle reazioni all'oscilloscopio abbastanza impetuose insomma le piante la natura ci ascolta ci sta dicendo questo diciamo che è l'acqua che assorbe le frequenze di quelle che sono le intenzioni e qui ci sono degli studi ampiamente consolidati per quanto riguarda la coerenza globale eccetera che ci mettono a condizione di comprendere ma con Emoto abbiamo un discorso un po' più particolare perché? perché lui ha cercato di in maniera ovviamente non prettamente scientifica comunque in maniera molto semplice quasi una comunicazione di massa rivolgendosi ai bambini ha fatto capire quanto sia importante ringraziare perché ringraziando noi riusciamo a stimolare un processo di risonanza con l'interlocutore propositivo tale da armonizzare i nostri liquidi biologici e questo permetterebbe uno stato sicuramente di entusiasmo che potrebbe nel giro di poco tempo cambiare le carte in tavola nel nostro ambiente senta lei ha fondato una vera e propria accademia per raggiungere quell'obiettivo ambizioso di diffondere la cultura e della valorizzazione dell'acqua e della nostra vita di conseguenza che si rivolge mi sembra soprattutto ai bambini perché? avete perso le speranze con gli adulti? allora diciamo questo intanto è una esigenza più che ambizione perché? perché effettivamente la realtà attuale per alzata di mano è che chi è felice in questo momento provi ad alzare la mano quindi significa che c'è di fatto una realtà c'è un'esigenza di fatto condivisibile che è quella di cercare di fare delle cose migliori e quindi abbiamo provato a parlare più e più volte con gli adulti ma ad oggi i risultati sono sempre questi dato che in 10 minuti i bambini riescono a ottenere e a dare un risultato che rende felici i presenti e a commuoverli allora significa che loro hanno una capacità che gli adulti hanno perso quindi ovviamente dove si va a investire la propria energia laddove ci sono i risultati però lei sa bene che i bambini vengono bombardati di tanti messaggi infatti è questo un altro problema allora i messaggi che vengono mandati per appunto bombardare la mente sono messaggi che sicuramente hanno dei fini ben precisi che non sono e lo vediamo dei risultati per un benessere collettivo ok l'esigenza è un benessere collettivo perché siamo una pluralità animali sociali i bambini investire nei bambini significa per emoto e non solo per emoto andare a investire sul nostro futuro e questo lo sappiamo anche da parte di quelli che mettono certi messaggi che investono sul target giovanile per nuovi consumatori quindi non ci stiamo inventando nulla ma cambia il messaggio ai bambini impariamo a dire grazie perché l'accademia in questo caso l'accademia dell'acqua è molto semplice perché a mio avviso a mio avviso se siamo arrivati ad una situazione non sostenibile da un punto di vista culturale perché all'estero non siamo assolutamente ben visti significa che forse forse nella struttura scolastica non c'è stato un vero e proprio compito scolastico perché se ci fosse stato forse saremmo andati questo è un appello ai dirigenti scolastici sicuramente non agli appelli al ministero dell'istruzione forse alla dirigenza che decide dei protocolli scolastici quindi a mio avviso l'esigenza non è creare soluzioni alternative o economiche o politiche no è a mio avviso creare un luogo didattico scolastico per realmente conoscere la realtà delle cose ma io capisco che questo non sta bene a qualcuno perché ovviamente qualcuno ci perderà nel far capire bene certe cose ma questo lo lascio agli ambiti che non ci competono a noi mi dica però quali sono stati i campi di applicazione che voi avete sperimentato perché tra poco li presenteremo allora diciamo questo che nasce questa accademia accademia dell'acqua perché abbia come base ispiratrice l'acqua ma è pretestuoso perché parlare dell'acqua è parlare di architettura di musica è parlare di ambiente natura ok l'accademia dell'acqua è nata perché attraverso il messaggio dato dal professore Motto che si basa su una sua ricerca non scientifica di fatto dà un'evidenza attraverso l'esperimento del riso che chiunque può fare a casa provandolo a farlo con queste due parole ti amo e ti odio sui barattoli e quindi dare la possibilità dopo un mese al riso di fermentare e capire la differenza nei colori ma levando questo aspetto che può essere visto anche su youtube esperimento del riso di Masare Modo quella è un'evidenza e diciamo questo che l'applicazione di questo metodo dove l'acqua ci indica cosa fare cosa non fare poi sta nel nostro buon senso significa che l'acqua educa l'accademia dell'acqua quindi è fisiologico come esigenza nell'osservare la natura la natura ci dice attraverso l'acqua cosa fare cosa non fare poi a noi la scelta l'accademia vuole enfatizzare questo processo di scelta dirigendo la conoscenza dell'alunno attraverso il dirigente il docente l'insegnante o il genitore per approfondire questo fenomeno perché riso bianco riso nero perché la piantina è più bella e la piantina è più brutta quindi perché la foglia è così architettura perché parlare colì musica cioè applicare una serie di metodi sperimentali che cristallizzati in un protocollo accademia dell'acqua diventino un riferimento per i genitori soprattutto per loro e allora vedremo che cosa è uscito fuori perché voi avrete insomma portato queste istanze queste idee ai giovani lo avete fatto in un istituto di scuola primaria se non sbaglio lo avete fatto in una realtà musicale e tra poco avremo anche altri ospiti quindi io lancio la pubblicità e torniamo qui ancora per parlare della valorizzazione dell'acqua con ulteriori ospiti vi aspetto di scuola primaria di scuola primaria di scuola primaria